Tra il maltempo di un luglio piovoso come un novembre in cui le precipitazioni sono state sei volte la media e i divieti di balneazione che hanno funestato la costa, non si può certo dire che l'estate abbia finora sorriso agli imprenditori del settore balneare. Piove sul bagnato, è un momento di grande crisi, profonda crisi legati agli stili di vita nuovi. La crisi sta veramente modificando le abitudini e questa stagione, ma soprattutto anche questo divieto, quindi la percezione del rischio senza ombra di dubbio non aiuta un momento già di per sé difficile. E se i balneari piangono non ridono certo i colleghi della ristorazione e dei servizi collegati al turismo. Tutto quell'indotto viene pesantemente penalizzato da questo tempo. È stato un luglio tragico, anche i vacanzieri che comunque avevano preso casa o comunque avevano preso in qualche modo l'ombrellone mensile si sono trovati poi a spostarsi nelle località vicine, nelle città d'arte, magari si sono gratificati facendo un bel giro a dei musei, nei centri storici, ma hanno comunque sottratto quell'economia fondamentale per la vita della costa che come ben sappiamo sostanzialmente campa su tre mesi. Quindi questo effetto sta creando una grande crisi nel settore del mondo della ristorazione, del mondo dell'accoglienza e questo con quegli effetti stagionali di assunzioni, di costi, di investimenti e di rischi di impresa che rischiano veramente di mettere in genocchio un'economia. A quanto si può stimare se non altro finora la perdita? Guardi, noi abbiamo fatto un raffronto, uno studio rispetto all'anno scorso, estate 2013, lo stesso periodo del luglio. Si parla di 600.000 turisti in meno che sono legati comunque al giornaliero, al fine settimana, all'improvvisazione. Allora questo tipo di effetto sta comportando proprio questi 80 milioni di euro di perdita all'intero indotto delle località turistiche.